Anticipazioni Il Segreto, sabato 24 settembre 2016 Sixto continua a pretendere che Prado si concede a lui, ma la ragazza preferisce prendersi un po' di tempo per pensarci e chiude temporaneamente la relazione. Francesca decide di rivolgersi a Severo per evitare di cadere nella povertà più assoluta. La donna, pur sentendosi umiliata, è costretta a piegarsi ai voleri del Santa Cruz per non cacciarsi ulteriormente nei guai. Candela scopre che Ines presto incontrerà Lucas, il quale la aggiornerà riguardo alle sue condizioni di salute. Il dottore poi svela alla ragazza che soffre di diabete e che soltanto un miracolo potrà salvarla.